Andrea, ciao, come stai? Ti ho portato Angelo. Molto piacere, Andrea, accomodatevi. Grazie. Angelo, come posso aiutarti? Dottore, volevo un consiglio perché da un po' di tempo che sento al tatto i miei capelli indeboliti e noto che il cuoio capelluto è leggermente irritato. Ti posso aiutare con la mia linea di cosmetici. In pratica ho un kit per rifoltire e per migliorare la qualità dei capelli. Si parte da uno shampoo molto molto delicato a base a estratti vegetali, può essere utilizzato anche tutti i giorni, ma dovrei fare attenzione a utilizzare anche insieme al kit il conditioner che in pratica dovrà bagnare solo i capelli e non il cuoio capelluto. Viceversa dovrai concludere la routine dei capelli con questo siero anticaduta da mettere solo sul cuoio capelluto per migliorare la circolazione. Vedrai in 10-15 giorni il cambiamento dei capelli e sembrano più folti e più forti. Ok, dottore, mi ha convinto, non vedo l'ora di provarli, ma cosa mi consiglia poi come novità per la prossima volta? Osservando la tua pelle ti consiglierei vivamente il mio nuovo prodotto, Turbolifting. Wow, ma io direi che a questo punto possiamo andare, ma la prossima volta ci pensi tu a portarmi in macchina, ti ricordi dove siamo? Via del Babuino 46, Roma. Sei top, sei top.